Io sono onorato di essere stato anche il segretario, insieme a altri miei colleghi, segretario della FILPE, CGL, che era Federazione Italiana Lavoratori Portuali. Ripeto, sono stato fiero perché ho imparato tante cose. Una fondamentale era questa, che chi aveva più esperienza nel sindacato ai giovani che entravano dicevano una cosa che era importantissima. Quando tu ti rapporti con un lavoratore e che ti chiede delle cose, prima di dare delle risposte tu devi capire se riesci a risolvere il problema del lavoratore e se lo riesci a risolvere glielo puoi dire. Ma se non riesci a risolverlo glielo devi dire comunque. Perché se tu gli dai delle aspettative e gli dici poi vedremo e poi faremo e poi alla fine non si fa niente, tu perdi la fiducia del lavoratore. Per cui questa è stata una delle strade maestre che gli anziani del sindacato invogliavano i giovani che entravano a fare esperienze nel sindacato. E per questo ne sono onorato poi per tutto quello che è successo anche a livello nazionale. Perché poi tra l'altro io insieme al Consul che è già stato qui presente, Alessandro Nofroni, eravamo membri della Commissione Occasionale Nazionale. Per cui quando c'era qualche problema che interessava gli occasionali a livello nazionale andavamo giù in questa Commissione che discutevano insieme al sindacato nazionale le problematiche in atto. Poi c'è stata un ammodernamento, chiamiamolo, del sindacato. Si è cercato di mettere insieme i lavoratori dei trasporti che quindi non erano solamente i lavoratori portuali ma erano gli autoferrotranavieri, i lavoratori delle case di spedizione, i del trasporto pubblico. E quindi c'è stato questo passaggio che si è passato dalla FILP, quindi dei lavoratori portuali, nella FIST che era la Federazione Italiana Sindacati dei Trasporti che era ovviamente sotto le organizzazioni sindacali FIST-CGL, la FIST-CISL e la UIL che avevano le loro sigle. Però anche questo è stato un passaggio intermedio. Poi dopo di nuovo una utile esperienza come sindacati dei trasporti si è arrivati proprio all'ultima, quella che è ancora in vigore adesso che è la Federazione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti, non più sindacato ma dei lavoratori dei trasporti, CGL che ancora oggi ha i suoi iscritti che sono molti e che fa capo a tutti i lavoratori perché prima il contratto di lavoro prevedeva i lavoratori dalla compagnia, dall'autonoma del porto, dal silo. Adesso è un contratto unificato dei lavoratori dei trasporti per quello che riguarda il porto che è molto meglio dall'altro perché l'altro era settorializzato e c'erano sempre delle trattative che interessavano una categoria e una volta l'altra. Grazie a tutti.